I soci della Società dei Verbanisti si sono riuniti nei giorni scorsi in città per svolgere l'annuale Assemblea Ordinaria. Un momento di confronto importante per fare il punto rispetto al lavoro svolto e per programmare i progetti futuri. Nell'occasione è stato anche presentato il numero 43 della rivista dei Verbanisti. Un volume corposo di oltre 300 pagine che come al solito contiene articoli di vario generi che riguardano l'arte, la storia, la letteratura e quant'altro e che da più di 40 anni segue le vicende di questo bellissimo lago e diventa un punto di riferimento imprescindibile per chi voglia conoscere, studiare o amare il nostro lago. La rivista che studia la storia, le tradizioni, l'arte, la cultura del Lago Maggiore, nelle sue tre sponde la Lombarda, la Piemontese e quella del Cantone Ticino. La rivista annuale è un corposo volume che comprende numerosi studi approfonditi e anche delle storie interessanti e piacevoli.